Pizzoli Red è una bella iniziativa del Comune di Pizzoli, della parrocchia di Santo Stefano e dell'Istituto Comprensivo Milani in collaborazione con la Questura e l'Associazione Donatella Tellini in occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne del 25 novembre. La sede del Comune innanzitutto si colorerà di rosso per ribadire solidarietà a tutte le donne che sono vittime di violenza. In realtà però il cartellone di iniziative non è limitato al 25, terminerà l'11 gennaio. Il 25 si parte con un recital all'Istituto Milani, ma ci sono anche tante altre iniziative, incontro con l'Associazione Donatella Tellini, con la Questura e anche un corso contro il bullismo e la difesa personale. Grazie alla collaborazione della Questura, della parrocchia e dell'Istituto Comprensivo di Lorenzo Milani il Comune di Pizzoli ha deciso di partecipare a questa organizzazione e quindi stiamo facendo la nostra parte come è giusto che sia, provando a sensibilizzare nel miglior modo possibile tutti quanti i cittadini iniziali dai più piccoli. Faremo due eventi con i ragazzi dell'Istituto Comprensivo. Un primo evento proprio il 25 di novembre in occasione della giornata mondiale per l'eliminazione della violenza contro le donne e qui coinvolgeremo i ragazzi della primaria, quindi i più piccoli. Ci sarà uno spettacolo teatrale introdotto da un breve messaggio che si vorrà mandare con un giusto linguaggio ovviamente rivolto a ragazzi di 8, 9 e 10 anni. Il successivo evento ci sarà il 9 di novembre presso l'Istituto Comprensivo, il Plesso di Cavallari e lì parteciperanno degli agenti della Polizia di Stato che si occupano proprio del tema della violenza contro le donne. Con il coinvolgimento della parrocchia si intende appunto coinvolgere la maggior porzione possibile della popolazione per sensibilizzare su questo tema. Si sa che anche Papa Francesco all'interno della Chiesa vuole valorizzare per quanto è possibile il ruolo della donna. A maggior ragione noi ecco come parrocchia partecipiamo volentieri a queste iniziative che sono improntate sul rispetto appunto della donna che ogni giorno sentiamo invece essere umiliata e violentata in tante occasioni. Grazie. Grazie. Grazie.